Una lavanderia totalmente abusiva è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Borgetto. Era gestita da due sorelle, allestita in modo precario e in totale assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa. Considerato lo stato fatiscente dei luoghi, le scarse condizioni igieniche, gli spazi angusti in cui vi era un'elevata concentrazione di apparecchiature elettriche, capi in fase di lavaggio e dunque bagnati, ovvero già trattati, confezionati e pronti per la consegna, fidi elettrici pendenti, carenza di vie di aereazione e di uscite d'emergenza. I militari hanno proceduto a segnalare all'autorità giudiziaria anche le gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro, previste dal testo unico sulla salute e sicurezza e integranti, un rischio effettivo sia per i lavoratori addetti che per i clienti, soprattutto in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui i processi di sanificazione risultano fondamentali per il contenimento e la pandemia. Nei confronti alle due sorelle si procederà inoltre alla contestazione delle relative sanzioni amministrative per violazioni delle norme specifiche relative all'esercizio abusivo e all'attività di tinto lavanderia, nonché alla contestazione delle relative sanzioni amministrative in materia tributaria per mancata installazione del registratore di cassa e mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie. Inoltre, i successivi approfondimenti investigativi hanno permesso ai finanzieri di rilevare che il marito di una delle due titolari aveva richiesto e beneficiato del reddito di emergenza. Attesa l'omessa comunicazione della posizione lavorativa svolta alla moglie, la quale, seppur esercitata in forma abusiva, costituisce una fonte reddituale per il nucleo familiare, si è proceduta a deferire all'autorità giudiziaria all'uomo e la comunicazione all'Inps della posizione del soggetto per l'arrevoca del beneficio e il recupero degli importi finora erogati a montanti a 1.220 euro.